ero nel mezzo di un corso per sketchup ho pensato sarebbe bello dire una cosa che tanti all'inizio non sanno non lo sanno perché ovviamente hanno poca esperienza cioè la loro prima esperienza per quanto riguarda la stampa 3d alcuni particolari possono perdersi possono perdersi non per colpa del disegno ma per colpa di come è fatta la stampante 3d ovvero da che tipo di ugello monti se tu lavori con un ugello da 0.4 alcuni particolari è normale che tu non riesca a vederli io ho importato il mio profilo in cura e sono andato sulla visualizzazione cos'è che succede nonostante io qua veda nella visualizzazione normale gialla nella visualizzazione dei layer non lo vedo più perché perché queste linee qua le ho fatte da tredecimi cioè la larghezza è tredecimi quindi io impostando dimensione dell'ugello 0.4 le perdo adesso vi faccio vedere su sketchup prendo lo strumento misura questo sono 0.3 e questa qua sarà 0.4 o più 0.4 2 0.4 già va bene perché l'ugello è da 4 dovete quindi soprattutto se realizzate gadget mi ha fatto pensare una discussione un po che ho avuto con una una persona che voleva informazioni su come fare gadget e se c'era mercato che prezzi utilizzare è una cosa che sicuramente ti deve preoccupare come imparo a fare i modelli bene per la stampa 3d perché se le stampanti sono programmate bene si ottengono buoni risultati che tante volte stupiscono spero che questo consiglio ti sia stato utile metti un bel like e condividilo alla prossima